Salerno al porto scoperto il tesoro dell'Isis. Sala Consilina, il presidente della provincia Campora, in città, per accordo di programma. Sant'Arsenio, pronto il progetto di valorizzazione di Borgo Serrone. L'amministrazione Pica presenta il video promozionale. Fisciano, la banca Montepruno, che sta di del Master Melfirm all'Università di Salerno. Calcio, il Real Sassano, fa 13 e vince il girone di terza categoria. Buongiorno e ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale di Uno News. I carabinieri per la tutela del patrimonio artistico di Napoli e Roma, insieme all'ufficio Dogane di Salerno, hanno sequestrato preziosissimi e unici reperti archeologici depredati dall'Isis e poi rivenduti per finanziare la rete terroristica. I particolari nel servizio. Preziosissimi e unici reperti archeologici depredati dall'Isis e rivenduti per finanziare la rete terroristica sono ora custoditi nella caserma Tofano, a Nocera Inferiore. La brillante operazione è stata portata a termine dai carabinieri per la tutela del patrimonio artistico di Napoli e Roma e dall'ufficio delle Dogane di Salerno. Nel container scaricato al porto da una nave approdata nei giorni scorsi nello scalo di Salerno erano contenuti una maschera egizia d'oro, un sarcofago e la barca dei defunti, una riproduzione in terracotta di una barca con 40 rematori, bene quest'ultimo di inestimabile valore. Sono ora in corso accertamenti per risalire alla provenienza di questi pezzi che rappresentano solo una minima parte di quanto trasportato nel contenitore, anch'essi, di ingente valore. Il tesoro, come detto, proveniva dall'Egitto, in particolare dal porto di Alessandria ed era contenuto all'interno di un container che viaggiava su un carico diplomatico, circostanza questa ora oggetto di un'approfondita indagine da parte della Procura di Salerno. L'operazione conferma anche la centralità del porto nella rete internazionale dei traffici illeciti, specie nelle tratte di collegamento con il Nordafrica. La conferma, indiretta, che per il finanziamento del terrorismo islamico non vengono commercializzate soltanto armi, droga e migranti, ma anche opere archeologiche di inestimabile valore saccheggiate nei siti e poi vendute sul mercato nero. Sotto questo aspetto la caserma Tofano di Nocera, ora centro polifunzionale di eccellenza, dopo la firma con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ospita i reperti che saranno poi trasferiti in un secondo momento nei paesi d'origine dove sono stati trafugati. Passiamo invece questa volta alla cronaca, misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare per un professionista di Padula, indagato per atti persecutori. Il provvedimento emesso dal GIP della Tribunale di Lago Negro su richiesta della locale Procura della Repubblica è scaturito a seguito di indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina al comando del Capitano Davide Acquaviva, a seguito quindi della denuncia della ex moglie. Dalle indagini dei militari della stazione di Buonabitacolo è emerso che l'uomo, dopo la separazione avvenuta nel febbraio del 2017, si è reso colpevole di episodi di stalking attraverso azioni di violenza, minacce, ingiurie, percosse e pedinamenti, ingenerando dunque nella donna e nella figlia un perdurante e grave stato di ansia. Da qui il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Furto invece con scasso a Sala Consilina la notte scorsa da un distributore di benzina Kuwait in località Sant'Antonio, i ladri sono riusciti a portare via il denaro contante dalla cassa del self-service, circa 3.000 euro. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Sala Consilina, mentre si esaminano le immagini dell'impianto di videosorveglianza della stazione di rifornimento. E invece questa volta cambiamo argomento perché andiamo a Sala Consilina dove è stato firmato un accordo di programma tra la provincia di Salerno e il comune di Sala Consilina per la realizzazione di una serie di interventi nel centro storico salese. Il presidente Giuseppe Campora è stato in città per la firma. Sentiamo. E' stato firmato un accordo di programma tra la provincia di Salerno e il comune di Sala Consilina per la realizzazione di una serie di interventi nel centro storico salese, precisamente in via Cavatta e in via Mario Pagano. Il progetto prevede la realizzazione di posti auto, autorimesse e box da parte di una ditta privata. In cambio al comune di Sala Consilina saranno ceduti alcuni immobili impiegati per interventi di pubblica utilità. Per la firma dell'accordo il presidente della provincia Giuseppe Campora è stato a Sala Consilina ricevuto nell'aula consigliare dal sindaco Francesco Cavallone, dal vice sindaco Luigi Giordano e dall'assessore all'urbanistica Gelsomina Lombardi. Attraverso l'accordo di programma abbiamo stabilito una variante urbanistica che dà la possibilità al comune di costruire attraverso una ditta privata dei parcheggi. C'è una collaborazione e una grande sinergia tra la provincia di Salerno e direi tutto il territorio che fa capo al Vallo del Diano, non soltanto con il sindaco Cavallone ma con il sindaco di Padula Paolo Imparato che è anche consigliere provinciale e con tutti gli altri sindaci del Vallo stesso. Di recente la collaborazione tra i due enti ha fruttato un finanziamento di 3.209.000 euro destinati alla ristrutturazione e all'adeguamento sismico del liceo classico Marco Tullio e Cicerone. Ora la collaborazione si sposta sul settore viabilità. Sarà il centro storico salese e la comunità che lo abita a beneficiarne. L'accordo di programma prevede che il comune otterrà una cabina Enel, un'area attrezzata a verde pubblico, sette posti auto lasciati liberi, quindi pubblici, in adiacenza della via Mario Pagano. In più, sempre a carico della ditta privata, diversi interventi migliorativi sulla proprietà pubblica, come la manutenzione straordinaria della viabilità su via Cravatta, la regimentazione delle acque piovane e il potenziamento della pubblica illuminazione. Credo che quando ci sia una collaborazione in sinergia tra enti istituzionali e al di là delle persone che la rappresentano si raggiungono ottimi risultati, come è capitato oggi con la provincia di Salerno, con la firma di questo accordo di programma per la costruzione di alcuni box che poi saranno venduti da privati, ma sicuramente con un ritorno di carattere pubblico. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio parte con la progettazione destinata ad una promozione turistica di Borgo Serrone, ma ipotizzando anche un sistema di housing sociale per far fronte all'emergenza abitativa nel borgo antico dello stesso Sant'Arsenio. Vediamo. Entrano nel vivo le iniziative di promozione turistica intorno all'antico Borgo Serrone, su cui il sindaco Donato Piche e la sua amministrazione hanno voluto investire in ottica di sviluppo del territorio. Dopo una serie di interventi per la riqualificazione degli ambienti dell'antico Borgo Sant'Arsenese, con il recupero con fondi europei di immobili di proprietà comunale ubicati nel Borgo Serrone, rispettando tutte le recenti normative ambientali ed antisismiche, oggi l'area è pronta per accogliere i turisti, ipotizzando anche la destinazione a progetti di housing sociale, con gli alloggi da destinare a giovani, single, anziani, eccetera, per far fronte anche all'emergenza abitativa e ricreare una deliziosa smart city. Nei giorni scorsi il progetto dell'amministrazione Piche è stato presentato all'Assemblea di Conf Cooperative Federabitazioni Campania, un progetto che punta a promuovere e far conoscere in chiave turistica il Borgo Serrone. Per farciò l'amministrazione comunale ha realizzato un video promozionale che partendo dalla bellezza storica e naturale del Borgo, ha presentato anche l'interno delle strutture recuperate e rese immediatamente fruibili, con cucine, centri congressi, sali ristoranti, mini appartamenti abitabili già dotati di mobili e suppellettili e con balcone con vista sulla vallata, wifi e utenze già attive. Inoltre, nella realizzazione dei lavori di recupero, tanta attenzione è stata riservata nell'eliminazione delle barriere architettoniche, rendendo l'abitato fruibile anche alle persone diversamente abili o con difficoltà motorie. Grazie alla disponibilità e all'interesse del presidente di Cov Cooperative Federabilitazione Campania, l'ingegnere Antonio Gesù Maria, spiega il sindaco di Sant'Ersegno Donato Pica, è allo studio un protocollo di intesa molto interessante per le prospettive future del centro storico e di riflesso dell'intero paese. Innovare la parola d'ordine insieme a Cov Cooperative, conclude Pica, e con le risorse eventualmente disponibili in regione Campania, sono allo studio anche forme di housing sociale per agevolare l'acquisto della prima casa. Il vice direttore della Banca Montepruno, Cono Federico, docente dal Master di un Master per un giorno. Ieri, infatti, l'Istituto di Credito è stato caso di studio al Master in Economia all'Università di Salerno. Vediamo il servizio. La Banca Montepruno diventa oggetto di studio per l'Università di Salerno. Ieri a Fisciano, il vice direttore generale Cono Federico, è stato relatore e docente d'eccezione nel Master Mayfirm, Master in Economia Finanziaria e Risk Management, promosso dall'Università degli Studi di Salerno. La storia dell'Istituto di Credito e la sua capacità di affermarsi anche a livello nazionale come banca di credito cooperativo tra le più efficienti del panorama nazionale, è stato quindi esempio da proporre agli studenti del Master. La sua ascesa, partita dal piccolo centro degli Alburni, Roscigno, diventata poi istituto di credito di riferimento nel Vallo di Diano, arrivando a coprire un ruolo importante nell'economia di potenze della Basilicata, fino all'arrivo lo scorso anno a Salerno, confermandosi nonostante le difficoltà e i problemi connessi alla fusione con la ex BCC di Fisciano, tra le banche creatrici di valore, con numeri ancora una volta importanti presentati nella scorsa Assemblea dei Soci, è stata quindi oggetto di una lezione specifica del Master, promosso dall'Ateneo Salernitano. Ieri, infatti, i partecipanti al Master per il Case Study hanno approfondito la conoscenza del caso Banca Montebruno, che è stato scelto dopo un'attenta analisi ed osservazione del percorso di crescita dell'Istituto di Credito, tenendo conto del contesto sociale ed economico da cui è partita. Essere quindi argomento di studio in un Master di Economia diventa ulteriore motivo di orgoglio per tutto lo staff della Banca Montebruno, che rappresenta così un modello da seguire per un'evoluzione e crescita economica e per il superamento di ostacoli e barriere. Sabato prossimo, 26 maggio, Polla ricorda il professor Vincenzo Curcio a dieci anni dalla sua scomparsa, Santa Messa presso la Chiesa di San Pietro per ricordare l'uomo, il politico, lo scrittore ed il docente, che tra le sue prime attività ha dato vita proprio alla biblioteca di Polla. Sentiamo il servizio. Sabato prossimo, Polla e il Vallo di Diano ricorderanno un politico di grande spessore che ha creduto fortemente nel valore culturale della sua terra. Il 26 maggio del 2008, il Vallo di Diano salutava Vincenzo Curcio, politico, scrittore, ma anche combattente, che è rimasto nel cuore delle persone per i suoi impegni a favore del territorio. Sabato prossimo, alle ore 18, presso la Chiesa di San Pietro a Polla, Don Paolo Longo celebrerà una Santa Messa per ricordare, insieme alla moglie Maria Venosa e al figlio Stefano, il professor Curcio, nato nel 1938, diplomatosi al liceo classico di Sala Consiena prima di conseguire la laurea in lettere classiche all'Università di Napoli. La sua vita piena lo vede impegnato come docente di latino e storia presso l'Istituto Magistrale Pomponio Leto di Teggiano e la sua scuola, il liceo classico Cicerone. Ma mentre lasciava un ricordo importante e un segno indelebile tra i suoi studenti, Vincenzo Curcio era anche impegnato nella promozione e diffusione della cultura e del sapere come amministratore, fondando un periodico di informazione insieme a Luigi Picca e Gerardo Ritorto dal titolo Il Vallo, Orgaro del Vallo Unito, preludio al suo impegno accanto sempre a Gerardo Ritorto, Luigi Picca e Derrico Quaranta a favore della costituzione della città Vallo. A Polla, Vincenzo Curcio, nel suo ruolo di assessore alla cultura, ha portato alla biblioteca comunale Don Lorenzo Milani, fondata nel 1974, curando personalmente la dotazione libraia dell'edificio. Vincenzo Curcio venne anche ricordato per la sua passione per il folclore che lo ha portato ad essere per molti anni responsabile del gruppo folclorico Tanager che ha portato Polla ad essere centro importante per la tradizione folcloristica. Tanti e importanti gli incarichi politici ricoperti è stato infatti presidente dell'Uslo 57, componente del Consiglio Generale della Comunità Montana Vallo di Diano e dell'Assemblea dei Comuni Depressi. Come autore ha pubblicato diverse opere come Tra il cielo e la terra, scritti vari e diversi, Dono d'amore e Cade la neve. Secondo il CNR, le meduse nei mari italiani sono aumentate dieci volte in dieci anni. Il motivo è la temperatura decisamente più elevata. Sentiamo. Sono decisamente aumentate le meduse nei mari italiani e ciò è avvenuto in appena dieci anni. Il motivo principale è l'inalzamento delle temperature, ma anche la progressiva scomparsa dei grossi pesci predatori. Lo conferma Angela Santucci, biologa marina all'Istituto di Scienze Marine del CNR di Lesina. Un problema che riguarda e investe anche le coste cilentane e campane in generale. Il nostro mare è la casa di numerose specie, di questi organismi gelatinosi, sia nativi che alieni, prosegue la biologa. Ormai ogni estate siamo a rischio, a causa dell'inalzamento delle temperature globali, dei massivi traffici marittimi attraverso i canali che ci collegano con gli oceani. Le meduse costituiscono un rischio solo per i bagnanti, ma anche a quanto pare per l'equilibrio biologico dell'ecosistema marino. Si avvia così una competizione alimentare con larve e avannotti di pesci. Ma anche per i predatori, i planktono struiscono le reti da pesca, causando la morte dei pesci perché mangiano uova ed embrioni. Alcune meduse non pungono, occorre temere solo le specie invasive, che provengono dai tropici e che possono essere letali. Pericolosissime sono la caravella portoghese e la medusa nomade. In caso di puntura della medusa, la prima regola è rimanere tranquilli, nel caso ci si trovi a largo, bisogna raggiungere con calma la riva, raccomandano gli esperti. Non ci si deve grattare né strofinare la zona con sabbia o pietre. Vi è meglio lavare la parte interessata con acqua di mare e tentare di ripulire la pelle dai filamenti residui. Nel caso di reazioni cutane diffuse, difficoltà respiratorie, pallore, mal di testa, nausea e vertigini, è necessario andare al pronto soccorso oppure chiamare il 118. Insomma, le meduse, a rispetto di come appaiono affascinanti e belle a occhio nudo, vanno tenute a debita distanza per evitare che quel fascino si trasformi in fastidio o, peggio, in qualcosa di più serio. Termina qui la prima parte della telegiornale di Uno News. Ritorniamo subito dopo la pubblicità con la seconda parte e con tutte le altre notizie. Ben ritrovati alla seconda parte della telegiornale di Uno News. Domenica prossima, 27 maggio, a Sanza, si correrà la Maratona Solidale Corri per un Sorriso, organizzata dalla Consulta delle Donne. Sentiamo Rosa Romano. Si terrà domenica prossima, 27 maggio, a Sanza, Corri per un Sorriso, l'edizione 2018 della Maratona Solidale, organizzata dalla Consulta delle Donne locale. Si correrà nei vicoli del centro storico partendo da Piazza Plebiscito alle ore 8.30. I partecipanti percorreranno Via Santa Brigida, Via Roma, Piazza 24 Maggio, Via Valdagri, Via Santo Stefano, Campola Corte, Via Madonna delle Grazie, Contrada San Pietro, Via Petraro, Via Santa Maria della Neve per giungere al traguardo fissato in Piazza 24 Maggio. La sesta edizione della storica Maratona porta a qualche novità. Quest'anno, dicono le organizzatrici, ha il preciso obiettivo di sostenere l'economia locale e valorizzare il centro storico. I premi messi in palio saranno di buone spese da utilizzare nelle attività commerciali del paese. Un appuntamento, dunque, che si rinnova nel solco della tradizione, ma con l'importante novità di voler far rivivere il borgo che sarà attraversato dai concorrenti che si sfideranno in un percorso di circa 10 chilometri. Le iscrizioni, fanno sapere infine, saranno aperte fino alla partenza della Maratona in Piazza Plebiscito. Tutti possono partecipare a partire dai 7 anni di età. Intanto, in questi giorni è possibile iscriversi presso il municipio, la parafarmacia e l'ufficio di consulenza che si trovano in Via Roma, il market edicola in Piazza 24 Maggio. Al momento dell'iscrizione bisognerà versare una quota di 5 euro per la categoria junior, 7-15 anni, e 10 euro per la categoria senior, dai 16 anni in su. Continuano gli incontri nell'ambito del ciclo seminariale Dialoghi di Storia, voluto dalla Fondazione Mida in collaborazione con i locali, il forum dei giovani, le reti museali e le associazioni del posto. Domenica prossima appuntamento a Padula. Vediamo il servizio. L'esperienza della conoscenza del territorio, incontro di battito con giovani che hanno condotto studi storici, storico-artistici e archeologici sul Vallo di Diano. È l'incontro organizzato dal Comune di Padula e dal locale Forum dei Giovani, che avrà luogo domenica 27 maggio alle 17, presso il Museo Civico Multimediale di Padula. All'evento seminariale, che rientra nel percorso culturale Dialoghi di Storia, voluto dalla Fondazione Mida, in collaborazione con la Rete dei Musei del Vallo di Diano, con i forum dei giovani e le associazioni giovanili del posto, prenderanno parte, oltre alla curatrice e la professoressa Rosanna Laggio, il sindaco di Padula, Paolo Imparato, l'assessore Filomena Chiappardo e la coordinatrice del forum, Annalisa Lagalla. Anche questa volta la location scelta si inserisce perfettamente tra gli obiettivi degli incontri, perché costituisce un luogo di memoria e di confronto. Ancora una volta i destinatari sono soprattutto i giovani, eredi del patrimonio del passato e artefici di un futuro auspicabilmente più consapevole. Sabato 9 giugno al Palazzo Monumentale Iesus ad Auletta alle 17.30, il Comune e l'Associazione Liberiamoci hanno organizzato l'appuntamento dal tema Il Messiere dello Storico, tra erudizione, mistificazione e critica delle fonti, episodi e miti medievali nel Vallo di Diano. Sabato 21 luglio alle 19.00 al Museo Mida 01 di Pertosa, il paesaggio come fonte storica, i processi di lunga durata nell'interazione uomo-ambiente nel Vallo di Diano, organizzato dal Comune e dal Forum dei Giovani. Venerdì 3 agosto alle 18.00 al Museo delle Antiche Vestiture a Polla, dialoghi di storia si conclude con l'incontro Statuti Cittadini e Organizzazione Politico-Amministrativa nel Vallo di Diano, nei secoli tardo medievali, organizzato dal Comune e dai ragazzi del Ponte. È prevista la partecipazione di circa 500 bambini provenienti da tutta la Regione Campania per il Jamborì regionale di mini-basket per la selezione alla partecipazione alle fasi nazionali in programma a luglio a Montecatini. Grazie alla Banca Montepruno e su iniziativa e impegno della Valdiano Pallacanestro dopo 25 anni di assenza, torna nel Vallo di Diano una commissione regionale esaminatrice che farà di Sant'Arsegno la protagonista assoluta per la scelta dei giovani campioni della categoria esordienti maschile e femminile, che rappresenteranno la campania alle fasi nazionali. Un evento importante che porterà le famiglie di circa 500 bambini a visitare e conoscere da vicino anche il Vallo di Diano, grazie alla giornata di eventi e di incontri promossi con il supporto del Comune di Sant'Arsenio che ha anche messo a disposizione la piazza dove saranno effettuate le selezioni e i mini-tornei di basket. La Banca Montepruno che sostiene l'evento è la Federazione Italiana Pallacanestro Campania. Ieri sera presso la Sala Cultura della Banca Montepruno la presentazione ufficiale in conferenza stampa dell'evento di sabato che vedrà la mattina una visita presso le grotte di Pertosa e di Auletta. Nel pomeriggio invece in piazza giochi, animazione, gare di basket e tanto divertimento e noi ascoltiamo le interviste realizzate ieri sera a Sant'Arsenio. Vediamole. Ho voluto fortemente questa manifestazione in piazza Sant'Arsenio perché erano circa 25 anni che non si svolgeva una festa regionale qui nel Vallo di Diano. Fortunatamente ho avuto l'appoggio sia del Comune che della Banca Montepruno. I ragazzini arriveranno in mattinata, visiteranno le grotte, poi pranzeranno in piazza Sant'Arsenio e alle ore 16 inizieranno le gare sportive. In conclusione ci sarà la premiazione e poi un bel momento di festa e tutti a casa. Una bella manifestazione che si terrà sabato prossimo che vede coinvolte tanti giovani, tante famiglie, augurandoci che il tempo sia buono in modo da far sì che diventi veramente una giornata di sport e di giovialità per tutti. Lo sport serve a questo, serve ad abituare i tanti bambini a fare competizione, però la base della competizione deve essere sicuramente tanta lealtà e tanta sportività, visto che parliamo di sport. In Campania ci sono tantissimi centri che fanno attività di mini basket, siamo un po' carenti nella femminile ma stiamo lavorando tantissimo, però siamo molto contenti, possiamo essere soddisfatti. Il lavoro che stiamo facendo con il nuovo comitato in particolare è quello di dare uno sviluppo notevole soprattutto nella scuola, cercare di dare delle strutture, lavorare sulle strutture con i comuni, cercando di dare delle strutture migliori alle società che veramente ne hanno bisogno. Quindi siamo contenti soprattutto anche di stare qui a Sant'Arsenio dove il 26 faremo questa manifestazione per far capire che il mini basket in particolare non ha confini, quindi lo portiamo dovunque. in tutta una campagna e speriamo che sia anche una bella manifestazione, gioiosa soprattutto ai ragazzi. Sì, con un evento di rilievo almeno regionale perché la federazione mini basket organizza questo raduno ogni anno in una località diversa. Mi dicono che ci sarà una grossa affluenza di ragazzi che ovviamente saranno accompagnati dai familiari, quindi sabato per Sant'Arsenio sarà una giornata importante perché oltretutto avremo molti turisti e molti visitatori che potranno conoscere il nostro paese. Deve essere questa la scelta da operare anche per il futuro, cercare di promuovere le cose buone che abbiamo. L'ultimo weekend di stagione regolare ha chiuso i campionati di prima, seconda e terza categoria. Nel girone D della terza categoria il Real Sassano vince e fa il salto in seconda. Nel servizio anche i finali di stagione in prima e seconda categoria. Sentiamo Giuseppio Promolla. L'1-3 sul campo del Colliano Futura ha permesso al Real Sassano di vincere il girone D di terza categoria al termine di una stagione partita bene ma conclusa in modo eccellente. La formazione del presidente Di Sisti che ha saputo mettere in fila ben 13 vittorie consecutive ha rimontato il vantaggio accumulato dal siciliano e Buonabitacolo nelle prime giornate del torneo ed è riuscita a chiudere in bellezza la stagione. La formazione sassanese infatti non aveva iniziato al meglio, tre sconfitte nelle prime 12 gare e poi il cambio. La sconfitta maturata nel finale di gara contro il Caggiano alla dodicesima è stato il punto di svolta. Da quel momento in poi solo successi per il Real Sassano che domenica scorsa a Colliano ha festeggiato la promozione. L'1-3 maturato in trasferta, gol di Ferro, Cardinale e Di Bella ha permesso di far stappare lo spumante e di aprire i festeggiamenti. Festeggiamenti che dagli spogliatori del Comunale di Colliano sono proseguiti al rientro. Nel campionato di seconda categoria Girone e I salgono direttamente Real Postiglione e Alfanese con quest'ultima che ha un margine superiore di 9 punti rispetto ai Black Lions terzi ed evitano dunque i play-off. In coda retrocede il Capaccio Pestum e chiude con una vittoria la stagione dell'Atletico Montesano mentre dopo un ottimo inizio di campionato il Real apertosa crolla e chiude con una batosta 8-0 in casa della Polisportiva Marina. In prima categoria infine con la San Maurese che ha festeggiato da tempo il salto di categoria e Sapri e Pollesi ormai condannate da tempo alla retrocessione diretta lo sguardo è rivolto alla post-season. La Quavella accende direttamente alla flenale play-off del Girone dove attende la vincente tra Sassano e Cicerale con la squadra di padrono Ricciardone in vantaggio sul fattore campo. In coda Vellina e Progoliano nello scontro diretto si giocheranno la permanenza in categoria. L'S di Cosilinum vince il campionato provinciale CSN, Centro Sportivo Educativo Nazionale. Le compagine di mister Ciro Caruso ed Ezio Romano hanno ragione delle altre contendenti al termine di un campionato disputato sia ad Eboli dove i ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 8 anni hanno dovuto affrontare circa 20 gare. Un successo che porterà la S di Cosilinum a giocare le finali regionali domenica prossima. Tuttavia andrà un'affermazione, si tratta di un'affermazione positiva per i ragazzi di Sala Consilina che si sono portati a casa, anche i premi individuali come il miglior portiere. Con questa notizia termina l'edizione del giorno della telegiornale di Uno News. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione delle 19.45. A voi tutti buon proseguimento di giornata. A voi tutti buon proseguimento di giornata.